Siete sicuri che gli strumenti di misurazione che usate nell'home brewing, nella produzione della birra siano veramente affidabili e precisi? Io questa domanda me la sono posta e ho fatto alcuni test anche per cercare di valutare la precisione degli strumenti che uso. Ho voluto fare questi test anche per cercare di capire il motivo di alcuni problemini che ho avuto in certe cotte come fermentazioni un po' stentate, un po' singhiozzo e tra le possibili cause potrebbe esserci anche un errore di misurazione non tanto da parte mia ma proprio un errore di valori indicati dagli strumenti che si usano. Quindi voglio condividere con voi i risultati di questi test e anche le modalità con cui li ho fatti perché ritengo che possa essere una cosa interessante fare voi stessi gli stessi test perché potreste avere delle sorprese. Il primo strumento che ho voluto verificare è il densimetro, strumento che tutti gli home brewer conoscono e utilizzano però a meno che uno non abbia un costoso densimetro cosiddetto di precisione quelli ordinari non sempre sono precisissimi. Come ho pensato di fare per testarlo? Semplicemente usando un liquido come campione un liquido formato da acqua zuccherata. I testi sacri dell'home brewing ci dicono che un etto di zucchero in un litro d'acqua ci dà una densità di 38 punti. Quindi facendo le opportune equivalenze abbiamo che ad esempio 20 grammi di zucchero in 400 ml di acqua mi danno una densità di 19 punti sarebbe 1,019. Aggiungendo poi 20 grammi di zucchero alla volta possiamo avere vari livelli di densità precisi misurabili e vedere quanto si discosta la misurazione effettiva se si discosta fatta con il nostro densimetro. Vediamo quindi cosa ci serve per fare il nostro test. Questo innanzitutto è il densimetro che uso normalmente è uno di quelli economici ma comunque di dimensioni abbastanza grandi. Avremo bisogno poi di una caraffa graduata per misurare la giusta quantità di acqua da utilizzare. Acqua che è preferibile sia acqua distillata o acqua demineralizzata come questa quella che si usa di solito nei ferri da stiro. Ci vorrà poi lo zucchero comunissimo zucchero bianco da tavola e ci vorrà una bilancia digitale più precisa possibile per pesare lo zucchero e poi ci vorrà ovviamente il nostro cilindro di test. Quindi iniziamo con misurare 400 ml di acqua e la versiamo nel cilindro perché innanzitutto verifichiamo la precisione del densimetro con la sola acqua distillata. Dovrebbe segnare ovviamente 0. Tutte le misurazioni le andiamo ad annotare. Ci facciamo una tabellina su un foglio di carta e segniamo i valori. Io ho anche un densimetro più piccolo come ruota di scorta. Questi sono quei densimetri forniti con i kit di attrezzatura e quindi come confronto vado a misurare anche con l'altro densimetro il valore. Riempendo un po' di più la provetta per facilitare la lettura in modo da vedere anche se ci sono differenze fra i due tipi di densimetri. Fatta la misurazione, rivotiamo l'acqua nella carraffa e pesiamo i 20 grammi di zucchero. e mescoliamo bene per farlo sciogliere perfettamente. una volta sciolto per benino lo zucchero riempiamo ancora la provetta e facciamo un'altra misurazione. come abbiamo detto a questo punto dovremmo avere un valore di 19 punti di gravità e poi andiamo avanti così aggiungendo di volta in volta 20 grammi di zucchero. Riportando i risultati su un grafico questo è quello che ho ottenuto. La linea azzurra in andamento lineare è quella teorico, quella arancione e quello invece misurato. Abbiamo che a valori centrali intorno ai 40-50 punti è preciso. A valori più bassi segna un punto 2 in più, a valori più alti segna diversi punti anche in meno rispetto al valore teorico che dovrebbe avere. Ok, ci tengo innanzitutto a precisare che questo test non ha la pretesa di essere un test scientifico perché comunque ci possono essere degli errori introdotti dal procedimento, ad esempio la precisione stessa della bilancia, difficilmente i 20 grammi di zucchero aggiunti sono esattamente 20 grammi, potrebbero essere 20 e mezzo, 19 e mezzo, insomma la bilancia non è una bilancia di precisione assoluta. Si potrebbe minimizzare un po' l'effetto di questo errore usando volumi più grandi, invece di usare 400 ml 20 grammi, usare un litro, 2 litri con un etto di zucchero, però se uno non vuole sprecare tutta quest'acqua e tutto questo zucchero si può fare così, è comunque una piccola approssimazione. Potrebbe anche essere utile magari ripetere il test diverse volte facendo poi una media dei risultati, io l'ho fatto due volte per esempio, non l'ho fatto una volta sola e ho visto che comunque non è cambiato praticamente nulla da una volta all'altra. In ogni caso i miei risultati quali sono stati? Innanzitutto che tra il densimetro quello grande e quello piccolo non c'era praticamente nessuna differenza, indicavano gli stessi valori, anzi a densità 0 il piccolo segnava effettivamente 0 mentre il grande segnava 2, mentre tutti i valori successivi segnavano tutti lo stesso valore. Per cui non c'è potrei dire una differenza di qualità tra il densimetro piccolo che è quello che viene dato normalmente in dotazione con i kit di attrezzatura e quello più grande dal punto di vista della precisione, l'unica differenza è che quella più grande, avendo una scala più grande è più facile da leggere tutto lì. In conclusione prendendo per buoni i risultati di questo test ne verrebbe fuori che fino ad ora, basandomi sulle mie misurazioni fatte con questo densimetro, potrei aver stimato sempre sempre delle OG più basse di quelle reali e anche delle FG più alte di quelle reali e di conseguenza anche aver stimato un'attenuazione più bassa e una gradazione alcolica più bassa di quella reale. Un altro strumento di misurazione che ho voluto testare è il termometro. Il termometro, questa è una misurazione importante soprattutto per chi fa all grain perché in fase di ammostamento, di mesh, è come abbiamo visto importante mantenere il mosto alla temperatura esatta. Magari un grado in più o in meno cambia poco ma se cominciano a esserci due gradi, tre gradi di differenza, l'ammostamento cambia. I risultati cambiano anche dal punto di vista poi della fermentabilità del mosto che si ottiene. Testare la precisione di un termometro però non è semplice mentre per il termometro. Con il termometro gli unici riferimenti certi che possiamo avere, non so, la temperatura di ebollizione dell'acqua, vedere se con l'acqua bollente misura 100 gradi. Però a noi non è che interessa più di tanto che il termometro sia preciso a 100 gradi, quanto che lo sia nella zona dei 60-70 gradi che è quella che poi viene utilizzata durante l'ammostamento. L'unica cosa che mi è venuta in mente di provare è di chiamare a raccolta tutti i termometri che avevo in casa e provare a misurare in contemporanea dell'acqua fatta scaldare a diverse temperature e vedere un po' le differenze che ci sono tra l'uno e l'altro e gli scostamenti, cercare di capire se effettivamente segnano tutti la stessa cosa o se alcuni sono fuori rispetto alla media per avere un'idea. Oltre che ovviamente poi misurare la misurazione a temperatura di ebollizione dell'acqua che anche quello comunque può essere un buon punto di riferimento. Eccoli qua allora i termometri, questo qua è quello che uso normalmente durante il Mesh è un termometro analogico diciamo così con gabbia protettiva, poi avevo in casa anche questo che può essere agganciato sul bordo della pentola e ho questi due termometri digitali, uno della Weber che uso per il barbecue e questo qua dell'IKEA con con la sua sonda esterna. Innanzitutto per curiosità cominciamo a vedere cosa segnano a temperatura ambiente. Questo segna sui 24 gradi, questo rotondo segna più o meno lo stesso, il Weber ne segna 25 e il digitale IKEA ne segna 26. poi metto un pentolino d'acqua a scaldare sul fornello. Dopodiché ci infilo dentro tutti i termometri in modo da misurare in contemporanea la temperatura a varie temperature. riscontrando che comunque bene o male le differenze già viste a temperatura ambiente poi si ripropongono quasi costantemente a tutte le temperature. 60 gradi, 61 quello IKEA, un grado 2 in meno gli altri due. Anche qui ho riportato tutte le misurazioni fatte su un grafico. in blu il termometro gabbia, poi l'arancione quello rotondo, il grigio il Weber e il giallo l'IKEA. Più o meno i due analogici segnano circa la stessa temperatura, a volte un grado in meno il tondo, il Weber segna un grado in più, l'IKEA due gradi in più, questo almeno fin verso gli 85 gradi. Dopodiché l'analogico a gabbia parte per la tangente, tanto che la temperatura di ebollizione dell'acqua segna addirittura 104 gradi. Il tondo si ferma a 98, mentre i due digitali segnano correttamente i 100 gradi. Quali conclusioni trarre quindi da questo test? Tra i quattro termometri, così indicativamente, sembrerebbero più precisi i due digitali. Tra i due direi quello Weber, perché quello l'IKEA comunque segna sempre un grado, due, tre, rispetto agli altri in più, mentre quello della Weber sta un po' nel mezzo, nel range di misurazioni, è preciso ai 100 gradi, quindi mi viene da pensare che sia tra tutti quello un po' più preciso. Poi, ripeto, non ho molti termini scientifici di paragone per poterlo affermare con certezza. Comunque, prendendo per buona la misurazione del Weber, avrei come risultato del test che il termometro a gabbia che uso normalmente segna un grado in meno. Nella maggior parte delle misurazioni segna un grado in meno rispetto al Weber. E se così fosse, vuol dire che tutti gli ammostamenti che ho fatto fino ad ora, li ho fatti ad un grado in più rispetto a quello che avrei voluto. Questo, come dicevo, non è una differenza clamorosa, però magari un ammostamento che andava fatto a 67 gradi, in realtà l'ho fatto a 68, magari con una puntina nell'oscillazione dei valori, arrivato anche sui 69, potrebbe spiegare alcune fermentazioni poi interrotte o delle attenuazioni comunque più basse del dovuto. Ecco, infatti ammostamenti fatti a temperature un po' più alte, così producono meno zuccheri semplici, fermentabili, per cui il lievito ha meno pappa da mangiare. In conclusione, io vi invito a fare anche voi qualche test di questo tipo sui vostri strumenti, se non altro per togliersi il dubbio o la curiosità, anche perché ho letto su forum che altri homebrewer che hanno fatto di questi test hanno scoperto di avere degli strumenti sballati anche di diversi punti rispetto al reale, quindi anche molto più di quello che ho rilevato io sui miei, e questo può causare effettivamente poi dei problemi. Eventualmente, se fate queste prove, fatemi sapere com'è andata lasciando un commento qua sotto. e con questo vi saluto, vi invito sempre a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, lasciare un mi piace, se avete trovato il video interessante vi do appuntamento alla prossima puntata.